Usavano un disturbatore di frequenze e così riuscivano ad aprire le auto in sosta senza lasciare neanche un graffio. Dopo averle ripulite, salivano a bordo della propria auto, pronti per il prossimo autogrill. Sono stati gli agenti della Polstrada di Battifolle a rintracciare e arrestare tre uomini e una donna, tutti originari del Sud America, accusati di furto aggravato. Era stato il centro operativo della Polizia Stradale di Firenze a diramare l'auto all'interno della quale viaggiavano i malviventi. Dopo un paio d'ore è stata avvistata e fermata. Nel bagagliaio gli agenti hanno ritrovato borse e zainetti che contenevano, oltre a abiti griffati, anche un personal computer e un iPad. Nella perquisizione sono saltati fuori anche due jammer, disturbatori appunto di frequenza, che servono proprio ad inibire le onde elettromagnetiche dei telecomandi delle auto. I furti si erano verificati in provincia di Alessandria ai danni di un turista coreano e in provincia di Piacenza ai danni di una coppia di inglesi. I quattro dovranno rispondere di furto pluriaggravato e si trovano presso il carcere di Sollicciano. I turisti inglesi, appresa la notizia del ritrovamento, si sono precipitati presso la caserma di Battifolle ringraziando gli agenti. Grazie mille. Grazie.